Quando vidi la danza delle antilopi, sulle prime la giudicai molto ingenua e quasi comica. Per lo studioso del folklore non c'è momento più pericoloso di quando si mette a ridere davanti a un'usanza popolare. Chi ride dell'elemento comico del folklore ha torto, perché nello stesso istante si preclude la comprensione dell'elemento tragico. È con questa attitudine da antropologo coraggioso che non si spaventa di fronte alla meraviglia, al mistero, alla profondità delle cose che compaiono davanti ai suoi occhi e non ride neanche della loro rappresentazione ingenua o brutale, che insieme percorreremo le tappe di un corso sulla scrittura della nostra storia. Lo faremo partendo dalla costruzione di un atlante di immagini e visioni, dalla raccolta del diario dei nostri sogni, dalla costruzione di un inventario dei fatti precisi che hanno determinato la storia della nostra vita e dalla raccolta delle credenze, degli stereotipi, delle abitudini che hanno determinato il modo in cui poi noi abbiamo raccontato questi fatti fino adesso, per trasformarli in un nuovo racconto breve che condivideremo insieme nell'ultima lezione. Io sono Marta Pastorino e questo è il nuovo corso online della scuola Holden, scrivere di sé il gioco della vita.